Buongiorno, a due anni dalla pandemia noi ci troviamo oggi in una situazione di incertezza. Per carità, all'inizio eravamo completamente sprovveduti rispetto al virus, ci ha preso di sorpresa, sono stati fatti enormi errori, ma anche però errori in buona fede, sono state fatte cose molto importanti, anche atti di eroismo e anche atti di viltà, perché c'è stato chi scappava dalle proprie responsabilità, però era l'inizio e poi c'è stato un momento importantissimo, lo faccio per riassumere quello che vi sto per dire, un momento importantissimo è stato quello dei vaccini, non c'è dubbio che la scienza si è mossa come mai si era mossa prima nella storia per quanto riguarda la velocità della ricerca e l'applicazione, sono venuti i vaccini, i vaccini hanno tranquillizzato in un certo senso anche troppo, poi si è capito che bisognava continuare, perché all'inizio c'era chi pensava mi sono vaccinato, basta, mi sono vaccinato, basta, non basta, ci vuole una seconda dose, ci vuole una terza dose e ora sappiamo che ci vorrà un nuovo ciclo vaccinale, forse una quarta dose e forse proprio un nuovo ciclo vaccinale, perché le varianti cambiano in continuazione, come avviene per i virus di tipo influenzale, dello stesso tipo del Covid, anche se molto differenti, il Covid non è un'influenza come dicevano all'inizio degli incoscienti, biologi, medici, eccetera, non è una semplice influenza, basta guardare i dati, però è di quel tipo lì. Allora adesso però che noi abbiamo avuto in mano una certezza che è il vaccino e che abbiamo avuto anche dei numeri, delle cifre importanti che oggi la Presidente von der Leyen dice per tutta Europa l'80% sono vaccinati e meno male, però siamo di fronte a un'incertezza grandissima rispetto a questa variante Omicron e dentro questa variante Omicron, che è velocissima nel contagio, anche se per i vaccinati gli effetti sono molto contenuti, c'è un problema specifico, lo avete visto, tutto ieri, tutto oggi e ancora nei giorni scorsi si è discusso sulle scuole, che riguarda i più giovani, si devono o non si devono riaprire le scuole. Qui ci troviamo di fronte a una svolta, io mi sto occupando molto di questo problema come me ne sono occupato anche l'anno scorso e vi dico francamente che senza fare schemi ideologici o politici, che sono i peggiori in questi casi, francamente sono combattuto, ma bisogna riaprirla subito la scuola come il governo vuole fare e sostengo il fatto che vada riaperta? Oppure bisogna tergiversare, prendere 15 giorni come le regioni chiedono e come 1500 operatori scolastici hanno chiesto? Questa è una risposta che io non saprei dare, però sono andato a cercare altre risposte e le ho trovate indirettamente dall'ex ministro Lucia Azzolina che ieri ha scritto un articolo molto interessante sul foglio. L'Azzolina, buongiorno, buongiorno onorevole Azzolina, lei è deputato dei 5 Stelle, non è solo ex ministro, è tuttora deputato e questo è l'articolo che lei ha scritto, penso che mi senta e che possa rispondere. Ci le sento. Ecco, questo è l'articolo. Buongiorno innanzitutto e grazie per l'invito. Grazie per l'invito doveroso, perché lei spariglia un po' rispetto a questa discussione aprire e non riaprire, col suo articolo mette alcuni punti fermi che mi hanno colpito perché sono essenziali e anche veri, cioè lei dice sostanzialmente tre cose, dice noi non abbiamo più preso i numeri veri, per cui oggi stiamo brancolando nel buio perché non tracciamo quanti sono veramente i contagi nelle scuole, noi non abbiamo sostituito gli insegnanti e non abbiamo neppure diminuito le classi aprendo nuove scuole e nuove classi, e quindi siamo sempre fermi a quell'idea dei 27, ma soprattutto, e io parto da quest'ultima cosa, lei dice una cosa che mi ha colpito, dice qui probabilmente a settembre il governo ha pensato per come andavano i contagi, per come andavano i numeri, che fosse finita e quindi lasciamo stare, si riprende la scuola, tutti contenti di farlo, lei per prima perché è sempre stata una sostenitrice di tenere aperta la scuola, come oggi il Presidente Draghi, anzi, all'interno del precedente governo, lei delle volte si è trovata da sola, è stata pure criticata e aggredita perché diceva che la scuola deve stare aperta, più possibile. Le lascio la parola, ci spieghi bene questi tre punti. Grazie, sì, io credo che quest'estate con un eccesso forse di ottimismo si è pensato che grazie ai vaccini si potessero mettere da parte le altre misure di prevenzione che invece sono fondamentali, parlo in particolar modo del distanziamento, il distanziamento a scuola quest'anno d'estate di fatti è stato eliminato, non era più obbligatorio come lo era stato per il nostro governo, ma era semplicemente raccomandato. Questo ha fatto sì che insieme al taglio del personale alcune classi che nel governo Conte II erano state sdoppiate affinché fossero meno numerose, quest'anno sono state riaccorpate le cosiddette classi sovraffollate, le classi pollaio. Questo ovviamente in un momento di pandemia non aiuta. Io che ho fatto il Ministro dell'Istruzione e so quanta prudenza ci voglia per gestire una situazione che è oggettivamente difficile, perché lo dobbiamo dire, era difficile gestirla per noi che non avevamo nemmeno i vaccini ed è difficile gestirla anche per questo governo, ma proprio perché è difficile bisogna essere molto prudenti. Quindi io sono una persona che crede nei vaccini, sono totalmente a favore della vaccinazione, ma non bastano i vaccini da soli all'interno di strutture scolastiche che per anni sono state abbandonate, che per anni hanno subito dei tagli. Noi abbiamo classi con 30 persone anche. Allora perché non pensare oggi delle piccole rotazioni provando a dare una risposta ai dirigenti scolastici per esempio? Io glielo dico con molta onestà, i dirigenti scolastici in questi due anni si sono assunti delle responsabilità non banali, delle responsabilità enormi. Se oggi stanno dicendo c'è un problema e lo hanno detto in 2.500 perché quelle firme stanno crescendo, il problema c'è. Quanto meno dovrebbero essere ascoltati, capire che proposte hanno, che cosa chiedono, faccio un esempio per tutti, chiedono le mascherine FFP2. Se il governo ritiene che siano più sicure, che possano dare maggiore sicurezza a tutta la scuola, perché non fornirle a tutto il personale scolastico e agli studenti come avevamo fatto noi per le mascherine chirurgiche per esempio? Certo. E poi c'è il problema dei dati che lei accennava. Noi non abbiamo i dati concreti di quanti sono i contagi. Oggi per esempio Tutto Scuola, che è una rivista molto autorevole nel mondo scolastico, ha fatto una proiezione di quello che potrà accadere a partire dal 17 gennaio in poi e ha detto che il rischio è che su 369.000 a classi. 200.000 vadano in DAD già a partire dal 17 gennaio. Ora queste proiezioni non le dovrebbe fare solo Tutto Scuola, io mi aspetto che sia il Ministero dell'Istruzione o meglio ancora il Ministero della Salute a dirci esattamente quali sono i numeri dei contagiati, perché così puoi predisporre una strategia e provare a rispondere anche ai dirigenti scolastici al mondo della scuola. Ecco, lei praticamente fa un intervento che io vedo a sostegno di quella lettera dei 1500 dirigenti che dicono prudenza. Devo dire un'altra cosa a chi ci ascolta, lo troveranno su TG.com perché è da stamattina che noi lo replichiamo. Questa mattina è andata in onda un'intervista molto importante di Francesco Vecchi, mattino 5, però anche TG.com, i spettatori di TG.com l'hanno vista perché eravamo in simulcast e l'abbiamo anche riprodotta sul sito TG.com, andatela a cercare se non l'avete vista, in cui Galli dice, forse il professor Galli tra l'altro ha avuto il Covid, quindi era reduce, l'ha raccontato anche in maniera interessante, i sintomi, però dice, io starei più attento a seguire le indicazioni di prudenza, anche se anche lui è a favore della riapertura delle scuole, lei anche e nel suo articolo lo dice, la cosa buona di questo governo è che comunque non sottovaluta la scuola come invece fu fatto in un certo periodo all'inizio, non da parte del governo, ma da parte di tutti che diceva, ma sì, ma chiudiamo le scuole perché in quel momento avevano più paura dei trasporti, non sapevano dove mettere le mani, lei lo sa benissimo, siccome avevano paura dei trasporti e dell'economia, le dicevano, ma chiudiamo le scuole e lei diceva, no, le scuole sono il posto dove si contagia meno, a quell'epoca poi era anche così, cerchiamo di provvedere alle altre cose, tra l'altro, lo ricorda nel suo articolo, tra l'altro si parlò dell'esercito, che poi non si è saputo più che fine abbia fatto, che nelle scuole sarebbe utilissimo per il monitoraggio, o mi sbaglio? No, sono totalmente d'accordo con lei, io feci una lunga guerra, devo dire, non la chiamo nemmeno battaglia, la chiamo proprio guerra per farmi aiutare rispetto al monitoraggio, rispetto a dare risposte ai dirigenti scolastici velocemente per fare i tamponi nelle scuole e questa cosa era un problema per il governo Conte Due ed è un problema ancora oggi, io ho sentito tanti annunci da parte del generale Figliuolo e le dico che inizialmente quando li ho ascoltati sono stata anche felice, perché ho detto, bene, finalmente forse riusciamo a fare i tamponi nelle scuole, a dare una risposta celere alle famiglie, agli studenti e al personale scolastico, in realtà sono rimasti purtroppo soltanto degli annunci, allora dovremmo chiederci perché, il nostro sistema sanitario a causa dei tagli che ha subito nel passato, oggi regge una situazione come quella che abbiamo, è bene dire che se ci sono tre positivi, allora i non vaccinati va fanno la DAD e gli altri no, secondo me non va bene perché è una misura discriminatoria e poi mi chiedo, quale genitore con molta tranquillità manda i figli a scuola sapendo che ci sono stati dei vaccinati in classe? Sono tutte domande che io da cittadina mi pongo, ma mi pongo perché ascolto i cittadini, ascolto quello che i dirigenti scolastici ci stanno dicendo, le famiglie, gli studenti, credo che in questo momento il Ministro dell'Istruzione dovrebbe chiamarseli e chiedere loro cosa ritengono utile affinché si pensi che la scuola possa partire più in sicurezza rispetto a come oggi. Senza il monitoraggio non si può pensare di garantire una scuola sicura, è bene che le ASL con tutte le difficoltà che hanno, mi rendo conto, possano provare a fare il loro lavoro e il figliuolo in questo deve provare a dare una mano concretamente, non soltanto tramite gli annunci che finora sono stati fatti, perché non basta la volontà politica del Presidente Draghi che io rispetto proprio perché vedo che crede nella scuola aperta. Poi ci vogliono anche delle misure concrete, se no il personale della scuola rischia di scoppiare. Questo è già successo durante il suo Ministero e me lo ricordo, cioè il problema della scuola è il problema del Ministro della Scuola, del Ministro dell'Istruzione, ma non è così. Il problema della scuola è il problema del Ministero della Salute piuttosto, del Governo intero piuttosto, perché la scuola non è una bazzeccola, cioè milioni di persone tra pochi giorni si mescolano e producono degli effetti che noi già vediamo ora, quando si sono mescolate, perché questo è successo durante le feste, per le questioni di attività ludica, di attività festiva, di tempo libero, si sono mischiate e oggi abbiamo quei dati che abbiamo. Questa cosa può essere molto criticata, perché uno dice conservate la salute e l'energia per il lavoro, per la produttività, voi invece la mettete a rischio per la parte che riguarda il tempo libero e poi ce la ritroviamo sul lavoro. Però per quanto riguarda la scuola, siamo noi che li chiamiamo in classe, è il governo che li chiama in classe, è la società che li chiama in classe e lei dice io non sono sicura, è così, sto interpretando male. Io dico che bisognerebbe chiamare i dirigenti scolastici e chiedere loro, perché hanno tutti i 2005 circa, sono sicura che diventeranno più di 2005, firmato quell'appello, perché loro stanno dicendo delle cose sacrosante, ne dico una, hanno grosse difficoltà organizzative per sostituire il personale docente ammalato. Oggi chi è positivo al Covid va in un regime di malattia, significa che non può nemmeno fare la DAD da casa. Sono 4 mila in Lombardia i docenti per esempio che in questo momento si stanno cercando, non è facile trovarli, anzi glielo dico io già adesso, perché con i dirigenti scolastici quando tutti i giorni non si troveranno, perché è difficile trovare supplenti per 5, 10, 15 giorni, soprattutto nel nord Italia che già soffre una carenza cronica di docenti. E poi c'è il problema delle mascherine che appunto i dirigenti chiedono. Io vorrei che in questo momento semplicemente fossero ascoltati dal Ministero dell'Istruzione rispetto alle esigenze organizzative che stanno dicendo di avere, loro sono le sentinelle sul territorio. Da Roma è tutto più facile, sembra tutto più facile, ma poi sui territori, nelle singole scuole, a rispondere alle famiglie, agli studenti ci stanno i dirigenti scolastici. E io sono una che crede nella scuola in presenza, perché so i danni anche dal punto di vista psicologico che possono avere gli studenti stando a casa. E tra l'altro non penso nemmeno che possa chiudere solo la scuola e il resto resta tutto aperto, perché torniamo allo stesso problema dell'anno scorso, non va bene. Però mi rendo conto di una situazione difficilissima che c'è a scuola e anche negli altri settori, perché c'erano 220 mila contagi all'incirca fino a ieri, io credo purtroppo che questi aumenteranno anche nei prossimi giorni. così dicono le proiezioni, dicono quello che dice lei. Però lei ha detto una cosa importante che io voglio riprendere e gliela sottopongo, che è quella del territorio. Lei dice ai dirigenti scolastici le sentinelle nel territorio, io dico anche ai dirigenti delle regioni. Qua ci sono dei presidenti di regione che sono intervenuti dopo essersi consultati con i loro assessori della sanità. E lo dico perché, l'ha detto lei, le ASL dovrebbero poi in qualche modo fare il semaforo di chi entra, chi esce, chi può andare o no. Però queste ASL, che prima sembrava che fossero il male del mondo, oggi sono tirate da una parte dall'altra dalla giacca. Perché? Il campionato di calcio deve continuare, ma deve essere regolamentato da un nuovo documento fatto dalle ASL. La scuola deve riaprire, ma deve essere regolamentata da nuove cose. Allora, qui ci sono uno scaricabarile, secondo me. Perché si prendono delle decisioni centrali e poi si dice, poi ci devono pensare le ASL, che dovrebbero pensare a tutto, ma che non hanno la possibilità di monitorare tutto e comunque magari le cosiddette sentinelle sul territorio non vengono ascoltate. Come lo risolve lei questo? Perché penso che lo vede anche lei questo. Lo vediamo tutti. Io non saprei oggi se dare ragione al presidente della regione le posso fare dei nomi, ma tanto sono molti. E di tutte le forze politiche. Non c'è colore politico lì che conta, perché le faccio i nomi di presidenti della sinistra, della destra, del centro e che dicono calma, non sappiamo come va a finire. E poi si dice, vabbè, poi ci penseranno le ASL, ma non lo so come. Le ASL sono in difficoltà perché il carico di lavoro che c'è è enorme. Vede un infermiere, un medico, non si formano dall'oggi al domani. E purtroppo, mi permetta di dirlo, la politica che in passato non ha programmato come si deve né sulla scuola né sulla sanità, ha creato poi questi danni che oggi paghiamo. Perché nel periodo di pandemia quali sono i due settori che in assoluto hanno pagato il prezzo più alto? La sanità e l'istruzione che per anni sono stati settori tagliati. Si è considerato che la scuola fosse una spesa, non un investimento. È la stessa cosa accaduta sulla sanità. Quindi è chiaro che oggi le ASL sono in difficoltà. Perché se con la scuola, lo abbiamo visto anche l'anno scorso, se c'è un ragazzino positivo e non è detto che si sia contagiato a scuola, anzi nella maggior parte dei casi si contagiano fuori da scuola, l'ASL comunque deve fare i tamponi a tutto il resto della classe. Questo implica risorse umane, risorse di tempo. Va fatto perché devi garantire la sicurezza poi delle scuole. Ma non è detto che con 220 mila contagi al giorno le ASL riescano a fare questo lavoro. Come si risolve? Non si risolve dall'oggi al domani purtroppo, si risolve nel tempo, facendo una programmazione negli anni e investendo su questi settori. Il PNRR per fortuna potrà consentirlo, adesso sta all'intelligenza di tutti quanti, forze politiche a tutti i livelli, fare squadra e spendere soldi che nel PNRR ci sono per sanità e per istruzione. Guardi, purtroppo io le devo dire, ma non lo dico a lei che fa il parlamentare, lo sa benissimo, chi ci ascolta, noi paghiamo le tasse per quattro cose, solo per quattro cose. Noi paghiamo le tasse per le pensioni, per la salute, per la sanità, per l'istruzione e per i trasporti. Tutto il resto è secondario, è bagatellare, come si direbbe, perché in realtà i soldi delle nostre tasse vanno in queste quattro missioni che configurano uno Stato. Tutto il resto può essere pure privatizzato, ma le tasse le paghiamo per questo. Credo che lei mi dia ragione. Per cui a un certo punto il cittadino dice, attenzione, se non si ottengono le pensioni, la salute, l'istruzione e i trasporti, una regolarità del movimento dei trasporti, noi abbiamo pagato le tasse in vano. Però lei ha ragione, si dovrebbe prendere una decisione centellinata in maniera da verificare, decidere, verificare e decidere. Però purtroppo c'è la politica anche in questo periodo, perché entro un mese si deve eleggere un Presidente della Repubblica e non sarebbe niente se non fosse anche che col Presidente della Repubblica si deve pure capire se ci sarà un prossimo governo per un anno, una stabilità di governo. Lei sorride perché si sta tutti i giorni in Parlamento. Viene da piangere. Eh? No, però lei lo sa, il Parlamento lo sente, che i suoi colleghi le dicono, ma se noi eleggessimo Draghi, poi il governo che fine fa? Dopo ce ne andiamo a casa, si sfascia tutto il Parlamento. Lo sentite con le mie orecchie queste cose. Allora, questa emergenza scuola e questa emergenza salute e questa emergenza politica, come si combinano? Mi dica la sua opinione. Si combinano male nel senso che adesso l'elezione del Presidente della Repubblica in questo contesto storico con l'emergenza sanitaria che abbiamo sicuramente arriva in un momento poco felice. Vede, noi finora siamo al quarto anno di legislatura, della diciottesima legislatura, abbiamo avuto quattro ministri dell'istituzione diversi. Come si fa a programmare se ogni anno casca un governo o all'incirca? Diventa difficilissimo. Io non penso che l'Italia possa avere una stabilità rispetto a determinate materie se una volta l'anno si deve cambiare il governo. Mi perdoni se glielo dico con molta franchezza, ma come si fa a pensare di cambiare il Presidente del Consiglio oggi, nel momento in cui hai appunto 220 mila contagi? Io lo trovo assurdo. Draghi stato chiamato a fare il Presidente del Consiglio perché doveva garantire due cose nello specifico. La prima, provare a dare una risposta all'emergenza sanitaria, quindi le vaccinazioni e gestire una situazione che è oggettivamente difficilissima da gestire. E la seconda, portare avanti le riforme del PNRR. Nell'una e nell'altra hanno trovato una soluzione, perché siamo in piena emergenza sanitaria e perché non basta presentare i progetti del PNRR. Il PNRR bisogna poi buttarlo a terra. Se abbiamo 560 milioni da spenderle per l'edilizia scolastica in Sicilia, quei soldi vanno spesi, non basta che ci siano soltanto, perché se no non abbiamo risolto nulla, dobbiamo costruire scuole nuove, rimettere a posto quelle che ci sono. Quindi io penso che il Presidente Draghi abbia ancora un grande compito davanti a sé, anche per l'importanza che gli è stata conferita per l'autorevolezza che ha in Europa. Ho capito benissimo e se dovessi titolare, come devo titolare, perché devo titolare il sito e tante altre cose, è il mio mestiere, se dovessi titolare io titolerei la risposta Azzolina Draghi Forever. È diversa dalla risposta di chi dice, ma è di chi ha detto, non lo dice nessuno, ma di chi ha detto Mattarella Forever perché c'è la pandemia. La risposta dell'Azzolina è Draghi Forever. È Draghi molto più utile a Chigi in questo momento, visto la situazione che c'è. Ho capito benissimo, lei non mi smentirebbe il titolo, direbbe beh in effetti l'ho detta un po' più articolata, ma questo è il mio pensiero. Azzolina Draghi Forever, grazie, grazie davvero la sentirò ancora e speriamo che la decisione, questo è il suo libro, anzi ne approfitto per presentarlo, questa è la vita, un po' la biografia di Lucia Azzolina dalla Sicilia al Ministero, il viaggio di una donna che alla scuola deve tutto perché appunto ha fatto l'insegnante. Io la ringrazio, a presto e adesso la Lina torna a Tg.com. Buona giornata.